Signori e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel solito usuale disordine della mia libreria. Allora, cari signori, questa sera parliamo di un film, parliamo di un film memorabile, parliamo di un film leggendario, parliamo di un grande film, non un capolavoro sicuramente, ma parliamo di un grande, grandissimo film. Perché questa sera vi parlerò della croce di ferro di Sam Peckinburgh. Allora, se vi ricordate, l'anno scorso feci la recensione di La carne paziente, un libro di Willi Heinrich, un libro memorabile di Willi Heinrich, il capolavoro di Willi Heinrich, che negli anni 70, nel 1977, fu trasposto su pellicola, ne fu ricavato un film, ad opera del grande Sam Peckinburgh. Non fu usato il titolo originale del libro, ovvero sia La carne paziente, fu usato il titolo La croce di ferro. Ma la trasposizione del libro di Heinrich, tutto sommato, è abbastanza fedele. Heinrich, ripeto, era uno scrittore appartenente alla cosiddetta generazione perduta tedesca. Quel gruppo di scrittori che tra gli anni 50 e gli anni 60 scrisse romanzi forti, duri, terribili, ma al contempo splendidi. Cioè, ripeto, io di Willi Heinrich ho recensito sia La carne paziente, sia La tavola d'oro, che sono due autentici capolavori come romanzi, che sono romanzi duri, pesanti, molto violenti e molto cupi, nella quale l'umanità viene tratteggiata con toni di disperazione, di lancinante durezza. Sono romanzi, quelli di Heinrich, straordinari per impatto e per forza narrativa. E credo che il regista più adatto per raccontare un romanzo di Willi Heinrich non poteva essere altri che Sam Peckinpah. Però c'era un problema. Il prodotto, allora, mettiamola così, Sam Peckinpah per tutti gli anni 60 e 70 e fino alla sua morte nel 1984, dicevo Sam Peckinpah fu un drop out, fu un outsider, fu un personaggio estremamente scomodo per Hollywood. Perché? Era un anarchico, un uomo libero, un grande artista, un grande regista, uno straordinario regista, ma era un uomo al contempo intrattabile, incontrollabile, dalla scarsissima diplomazia, totalmente incapace di fare il leccaculo e soprattutto assolutamente fuori controllo. Sam Peckinpah era matto come un cavallo. E il fatto che si drogasse pesantemente e che bevesse come un tombino non lo aiutava di certo a trattenere il suo carattere scorbutico e veramente, per usare un eufemismo, poco diplomatico. Sam Peckinpah fu l'autore, tanto lo sapete tutti più o meno chi era l'autore, di film memorabili come Il mucchio selvaggio, come Pat Garrett e Billy the Kid, Voglio la testa di Garcia, Cane di Paglia. Insomma, un regista che ha rivoluzionato il cinema hollywoodiano, un regista che ha rivoluzionato il cinema. Lui e Sergio Leone sono indubbiamente due maestri che hanno rivoluzionato il modo di intendere il western, sicuramente, e devono molto l'uno all'altro, poco ma sicuro. Comunque sia. Dicevo, negli anni 70 Sam Peckinpah era ridotto a un rottale. Aveva passato praticamente gli ultimi anni, diciamo verso la metà degli anni 70, aveva passato praticamente gli ultimi due o tre anni a sfasciarsi letteralmente di alcol e droga, di qualsiasi tipo di alcol e di qualsiasi tipo di droga. Era giunto ad un punto tale di paranoia e di tossicodipendenza che lui e uno dei suoi più cari amici nonché attore feticcio, ovvero sia Warren Oates, dicevo, Oates e Peckinpah si rinchiusero in un ranch per mesi, si rinchiusero per mesi in un ranch nel deserto californiano armati di tutto punto ad aspettare l'invasione degli alieni. È. È a drogarsi come cucù. Non gli fece sicuramente certo bene alla salute perché entrambi morirono nei primi anni 80 col fisico distrutto dagli eccessi che avevano fatto. Insomma, tanto per dirne una, Warren Oates, se vi guardate 1941 allarme ad Hollywood, Warren Oates è l'uomo che interpreta il colonnello Maddox, Maddox il matto, l'uomo che faceva esercitazioni da sbarco nel deserto. Chiedetevi perché Warren Oates in quel film è così plausibile nel ruolo del colonnello paranoico e fuori di testa. Forse perché ne citava se stesso, ma vabbè. Ne parleremo magari quando recensirò 1941 allarme ad Hollywood e ne parlerò anche di quel film. Dicevo, Sam Peckinpah a metà degli anni 70 era oramai bandito praticamente da tutta Hollywood. Hollywood di lui non ne voleva più sapere. Non potevano più tollerare la sua anarchia, il suo alcolismo, la sua tossicodipendenza, i suoi scatti d'ira terrificanti perché era noto per essere un uomo quando beveva e si drogava, era un uomo assolutamente violento e incontrollabile. Però sapeva farsi voler bene perché i suoi amici gli furono sempre fedeli e sempre vicini fino alla morte, nonostante il suo carattere terribile, nonostante le sue intemperanze. Ma torniamo a noi. Allora, Sam Peckinpah, ridotto a un rottale senza possibilità di lavorare, senza possibilità di trovare un ingaggio come regista ad Hollywood, si rivolge all'Europa. C'è questo bellissimo romanzo, La carne paziente di Willi Heinrich, che merita di essere trasposto su pellicola. E c'è un produttore tedesco che aveva fatto i soldi col porno, aveva fatto tanti soldi col porno, e decise di fare il grande salto e di passare al cinema, cosiddetto mainstream. Solo che non si aspettava il poveretto di trovarsi a che fare con un pitbull inferocito e incontrollabile come era Sam Peckinpah. La lavorazione della croce di ferro fu segnata da terrificanti problemi. Peckinpah era ridotto a un rottame, ripeto. Il produttore cercava in tutti i modi di risparmiare. Gli attori si ritrovavano in Polonia a non sapere cosa fare perché le riprese andavano avanti a strappi a singhiozzi. Ma nonostante questo, nonostante i problemi, nonostante anche il fatto che poi, alla fine della ripresa, Peckinpah fu praticamente esautorato dalla produzione e non gli fu data la possibilità di montare il film come lui voleva, di fatti molto del girato andò perso e il montaggio quasi originale è stato recuperato qualche anno fa in una edizione di Rector's Cut disponibile su DVD della Croce di Ferro che vi consiglio caldamente di recuperare. Dicevo, un film, la Croce di Ferro, che non è un capolavoro perché risente pesantemente dei problemi personali del regista di Sam Peckinpah e risente pesantemente degli scontri continui con la produzione perché Peckinpah era un regista che spendeva soldi, quantità enormi di pellicola, continui, 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 continui ciac fino a quando tutto doveva essere perfetto come diceva lui. Il montaggio, anche quello, lungo, costoso, complicato, difficile. Insomma, Peckinpah non era assolutamente in grado di gestire la situazione. Il film con James Coburn è bello, è bello, indubbiamente bello. La storia, bene o male la conoscete tutti, la storia di un sergentaccio della Wehrmacht che si trova a che fare con un capitano vile e meschino che cerca in tutti i modi di guadagnarsi la croce di ferro. E ci racconta Sam Peckinpah i temi a lui più cari, a parte la violenza, mai gratuita però, sempre finalizzata al racconto della storia. Dicevo, il termine dell'amicizia, dell'onore, della lealtà, dell'amicizia virile, l'amicizia fra uomini, la lealtà fra coloro che sono uomini e che si sentono tali, coloro che non riescono a perdere la loro umanità, la loro forza, la loro dignità anche in un carnaio come quello della seconda guerra mondiale. La croce di ferro, contrariamente... Allora, c'è da dire una cosa, ripeto una cosa. La croce di ferro, il film La croce di ferro, viene spesso citato a sproposito come film filo tedesco, come film filo nazista. Perché? Ah, perché diversamente... Cioè, cose lette su diversi gruppi Facebook quando si parla di questo film, ah, perché finalmente un film dove non ci sono gli americani, un film di guerra dove si racconta la guerra vista dai tedeschi, un film di guerra dove i tedeschi non sono i cattivi. Sottintendendo, visto chi ne parlava con questi toni, sottintendendo che questo qui era un film filo nazista. Col cazzo, se mi è concesso a dire. Perché uno, dare del nazista a Peckinpah equivale a dire a me che sono juventino. Ok? Due. Non si tiene minimamente presente del fatto che il film di Peckinpah, La croce di ferro, derivava da un libro, quello di Wilhelm Ehrich, La carne e paziente, che tutto era tranne che filo nazista. La storia del film è tutto tranne che nazista. È la storia di uomini che combattono, che non sanno neanche perché combattono, che si sono trovati in una guerra che non volevano e non desideravano, che in quella guerra hanno dato il meglio ma anche il peggio di sé. Una guerra terribile, una guerra violenta, una guerra sanguinosa. Nello spirito della narrazione fatta da Peckinpah, il libro di Wilhelm Ehrich, pur se con le dovute differenze, perché sapete bene che i film non sono mai la trasposizione fedele dei libri, è praticamente impossibile, ma dicevo, lo spirito del libro di Wilhelm Ehrich è stato pienamente colto da Sam Peckinpah nel suo film, nel film La croce di ferro. Perché Wilhelm Ehrich parla delle brutture della guerra, della violenza, della durezza, della spietatezza, della perdita dell'umanità in guerra e in cui c'è soltanto la salvezza dell'amico, del camerata che ti combatte a fianco, ma non per Hitler, non per Stalin, semplicemente perché combattono per la propria vita, perché si trovano stritolati in un gioco più grosso di loro. Di questo parla il libro di Ehrich, questo racconta anche il libro di Peckinpah, il film di Peckinpah, La croce di ferro. E chi sostiene che sia un film di simpatie naziste vuol dire semplicemente che non ha capito un cazzo né del film né del libro, ammesso in un concesso che ne conosca l'esistenza, e nemmeno dello stesso Sam Peckinpah, che tutto era tranne che nazista, era un uomo violento, verissimo, raccontava storie di sangue, di violenza, di dolore, di brutalità, raccontava storie crude. Per l'epoca Sam Peckinpah era uno che veramente faceva fare la figura del seminarista a uno come Quentin Tarantino, che gli deve molto. Il cinema di Quentin Tarantino deve moltissimo insieme a Sergio Leone a Sam Peckinpah. Lo sappiamo tutti, Quentin Tarantino è uno che senza Sam Peckinpah probabilmente farebbe ancora il commesso in una videoteca. Lo ammette anche lui, se vogliamo, ma ripeto, Peckinpah raccontava storie crude, dure e violente. Punto. Il film La Croce di Ferro è un film crudo, duro e violento. Ripeto, non è un capolavoro ma rimane comunque un film memorabile. Non è un capolavoro perché risente, ripeto per l'ennesima volta, delle gravissime difficoltà personali, delle gravissime paranoie di cui soffriva Peckinpah all'epoca. Alla fine della sua vita riuscì in un qualche modo a ripulirsi ma, ahimè, fu ucciso da un tumore al fegato dovuto proprio ai suoi eccessi alcolici e chimici. Ma questo esule dal film. Ripeto, La Croce di Ferro come film è un film memorabile. Un film in cui James Coburn è magnifico nel ruolo di Steiner, un film in cui la guerra è il pretesto per raccontare l'ipocrisia dell'uomo, la violenza dell'uomo, ma anche per raccontare l'amicizia, la solidarietà, l'amicizia virile, uno dei temi più cari a Peckinpah. Come dire, la sensazione dell'uomo, di questi uomini di trovarsi sempre fuori posto, di non avere posto in questa società di mezze figure, di mezze calzette, di servi, di assassini, di ladri e di schifosi. I personaggi di Peckinpah sono dei giganti, sempre, che nella loro violenza, nella loro crudezza, nella loro feroce rappresentazione della realtà, rimangono, come dire, se stessi e sono uomini, innanzitutto, con i loro pregi, con i loro difetti, ma soprattutto con la loro dignità. E Peckinpah, in questo, è un autentico maestro. Io, ripeto, se volete vedere veramente il capolavoro assoluto e totale di Peckinpah, io vi consiglio di guardarvi e di impararvi a memoria Il mucchio selvaggio. Quello è il suo miglior film, indubbiamente. Quello che, diciamo, gli fu permesso di gestire meglio. In una sua intervista, Peckinpah diceva che l'unico film che sente suo, veramente suo, anche se non totalmente suo, è proprio Il mucchio selvaggio, nel quale, dice, io, Il mucchio selvaggio è all'85% il film che volevo fare io. Per il resto, tagli di produzione, tagli di montaggio, eccetera, eccetera, per cosa? Per diminuire i costi, per diminuire il minutaggio, per rendere il prodotto più appetibile. Il mestiere di un produttore è quello di mettere soldi in un film per fare soldi. E questa cosa qui, con Bloody Sam, era un pochino problematica, diciamoci la verità, per usare un eufemismo. Comunque sia, cari signori, io ripeto, se volete vedere uno dei più bei film di guerra di tutti i tempi, pur con le sue imperfezioni, pur con i suoi difetti, pur vedendo che si tratta di un film girato in economia, perché anche se il produttore della Croce di Ferro aveva fatto i soldi facendo il porno, insomma, si trattava pur sempre di uno che di soldi per permettersi di non litigare con Peckinpah ne aveva pochini. Ecco, dicevo, guardatevi, procuratevi il DVD della versione Director's Cut di De La Croce di Ferro, dove hanno recuperato molto del girato che si è potuto salvare, perché molto del girato della Croce di Ferro era andato perduto. Il montaggio originale, quello da cui Peckinpah fu estromesso, insomma, è piuttosto raffazzonato, soprattutto nel finale. Ma, 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 ripeto, se volete vedere un film che, come pochi altri, racconta la guerra vista e fatta da uomini, io vi consiglio, e vi ripeto caldamente, vi consiglio di guardare La Croce di Ferro. Per me non ve ne pentirete. Ripeto, io per il cinema di Peckinpah ho un debole. Lo considero un genio assoluto del cinema, lo considero un maestro assoluto del cinema, è, secondo me, un grande rivoluzionario del cinema, insieme all'altro grande maestro, al grande maestro che fu Sergio Leone. Io, ripeto, non sono un esperto di cinema, io sono un fruttore, io vado al cinema, leggo di cinema, mi piace andare al cinema, mi piace un certo tipo di cinema. Sono legato sentimentalmente a maestri, ripeto, come Peckinpah, come Sergio Leone, come, vabbè, il Giorgio Lucas di Guerre Stellari, Dio mio, ragazzi, anche Guerre Stellari, che è praticamente un western, anche quello, se vogliamo. Però, ripeto, La Croce di Ferro, con i suoi difetti, rimane un film assolutamente imprescindibile per chi vuol vedere un grande film di guerra, rimane un film assolutamente imprescindibile per capire chi era Sam Peckinpah, rimane un film memorabile da vedere perché getta uno sguardo particolare sulla guerra vista e fatta dagli uomini. Ripeto, non è un film filonazista, anche se viene girato, anche se racconta le vicende di un gruppo di soldati tedeschi. Perché? Vuol dire, insomma, ripeto, Peckinpah era essenzialmente un anarchico, un genio e un uomo libero, ovvero sia quanto di più distante ci sia dal nazismo. E, come ho accennato prima, bisogna saper leggere quel film e soprattutto, se volete un consiglio, o prima o dopo aver visto La Croce di Ferro, leggetevi anche La Carne Paziente di Willi Eirich, il romanzo da cui è tratto. Non ve ne pentirete perché scoprirete, secondo me, vabbè, se non lo conoscete con La Croce di Ferro scoprirete quel grande regista che era il vecchio Sam. E soprattutto, se leggete il libro, scoprirete un grande romanziere in grado di narrare con vivacità, con forza, con violenza e crudezza quello che è veramente la guerra. Quello che io dico sempre della guerra. Sangue, merda e brutte cose. Tutto qua. Quindi, cari signori, ripeto, se volete vedervi un bel film, trovatevi o riguardatevi La Croce di Ferro di Sam Peckinpah. Se volete leggere un bellissimo e straordinario romanzo di guerra, trovatevi La Carne Paziente di Willi Eirich. Non ve ne pentirete perché si tratta di due capolavori, uno della letteratura e l'altro del cinema. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.